Buonasera e bentornati al mio canale. Questa sera faremo delle melanzane al forno con pomodoro e mozzarella. Abbiamo le melanzane e i ciliegini dell'entroterra di metaponto, ricordate sempre materia prima di alta qualità. Faremo prima una tatolata di pomodorini e verranno conditi con sale, olio, aglio, capperi e basilico. Le melanzane le faremo a fette, inforneremo, cotte le melanzane con il pomodoro e il nostro preparato per aggiunta la mozzarella e degli alici. Un piatto molto appetitoso. A dopo. Procediamo a tagliare delle fette a fette le nostre melanzane di uno spessore di 8 mm 1 cm. Se prendete le melanzane tonde potete tagliarle nel verso contrario. Attenzione a questi coltelli che sono affilatissimi. Poi facciamo delle incisioni leggere su tutti e due i lati. Permetterà di far insaporire in modo più uniforme la melanzana. Ecco qui. Saliamo le miranzane su un po' di due lati. Saliamo le nostre melanzane su un po' di due lati. e mettiamo il nostro olio a estrae vergine di oliva sempre a due due lati. Non c'è bisogno di metterli sotto sale per perdere l'acqua, l'acqua ci aiuterà durante la cottura. Messe da parte le melanzane, procediamo a fare la tatolata di ciliegini, se sono piccoli potete tagliarli in quattro. Questi sono saporitissimi. Procediamo così per tutti i quattro etti di ciliegini che abbiamo, quattro etti e mezzo grillo. Diciamo che sono i pomodorini necessari a farcire quattro melanzane. Questo è un lavoro di pazienza, potete usare anche una polpa pronta, però insomma non è lo stesso risultato. Ci vorrà qualche minuto. Ora aggiungeremo ai nostri pomodorini un trito di capperi e basilico. Giapperi sono del salento. Li tagliamo finemente, almeno si insaporisce bene il nostro pomodoro. Non aggiungete molto sale al pomodoro perché abbiamo già i capperi e poi dopo sopra la mozzarella ci entrano le alici. Ricordate, anche le alici e la mozzarella, prendete un prodotto di alta qualità. Ecco qui. Fare sempre attenzione con i coltelli. Quindi aggiungiamo un po' di olio, poco poco sale e un po' di pepe. Questo lo lasciate insaporire in frigo per un paio d'ore. A dopo. Allora, nella nostra leccarda mettiamo la carta forno, un goccino d'olio e un goccino d'acqua che ci aiuterà nella cottura. Poi disponiamo le nostre melanzane, precedentemente condite con olio e sale. Se dovete fare 2TL fatele dello stesso spessore, in modo che la cottura non ci inganna. Ecco qui. Poi mettiamo i nostri pomodorini, cerchiamo di metterli sempre in maniera uniforme. Dividete il prodotto sulle superfici, poi semmai ripassate. Questo ragazzi non è un contorno, è un buon antipasso o un piatto unico. Intanto facciamo riscaldare il forno a 180 gradi. E ci vorrà 20 minuti, una mezz'oretta ecco. considerate che la melanzana assorbe tanto olio, eh? quindi... ecco qua. ecco qua. E inforniamo. Sono passati 30 minuti, le melanzane sono quasi cotte. ora aggiungiamo la nostra datolata di fior di latte. lavoro anche questo di pazienza, eh? che profumo ragazzi, il basilico e i capperi non si battono. ecco qui. ora riforniamo le nostre melanzane e poi successivamente aggiungiamo le alici. ecco il tocco finale. ecco il tocco finale. aggiungiamo le alici. ricordate sempre materia prima di ottima qualità, eh? ecco il tocco finale. Nel frattempo spingiamo il forno. ecco qui. e riappoggiamo le melanzane per finire la cottura cottura ultimata, le nostre melanzane sono pronte per essere impiattate spettacolo vero!